Ciao a tutti, ok, ho acquistato il pacchettone da 32 euro, adesso pretendo almeno 10 5 stelle Nuovi, non acquistavo da un secolo e quindi vado subito con la... Ah ma che cazzo so di, io stavo a pensare per 30 se magari... Vabbè, vado con la per 10, non ci ho capito un cazzo come al solito, vabbè Pronti? Eh oh, ma che vuoi te? Eh, pure lei, pure lei Pronti? Via? Dai! Dai! Taglie cazzo! Oddio è uscito subito! Oddio è uscito subito! Taglie cazzo! Taglie cazzo è uscito subito! Oddio! Oddio sti cazzo degli altri, sti gran cazzi! E gli altri ma chi se li fotte! È uscito subito! Oddio! Daglie cazzo! Dai, dai, finiamola qui! oh 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 grandissimo grandissimo dai e vediamo un po sto bauletto ma vattela a piander culo e vabbè le altre chiamate le faccio dopo va grazie a tutti